Quali prossimi passi? Quali sono i passi che potrebbero avvenire prima della fine della legislatura? Allora, intanto vi ringrazio per l'invito e ringrazio anche il Politecnico che ci ospita. Parto da un cappello prima, volevo ampliare un attimo la visione, nel senso che noi parliamo di consumo di suolo che è uno degli aspetti per combattere i cambiamenti climatici, fermare il consumo di suolo. Quindi iniziamo a metterci nell'ottica che non stiamo discutendo di questo singolo problema e di una battaglia tra ambientalisti e costruttori, piuttosto che tra due categorie specifiche. Stiamo discutendo di sopravvivenza sul pianeta, il pianeta va avanti tranquillamente senza di noi e quindi stiamo discutendo di cosa vogliamo per il nostro futuro. E ormai ci dicono, appunto la scienza ci dice, non certamente parti politiche, che siamo arrivati al limite, non possiamo più disinteressarci di questi aspetti. Quindi il consumo di suolo lo inseriamo tra uno degli aspetti per cercare di fermare appunto i cambiamenti climatici o comunque limitarne il danno. Anche perché faccio un esempio, quando andiamo a cementificare andiamo a perdere del suolo che è in grado di sequestrare e comunque riutilizzare il CO2 e poi magari chiediamo proprio a un ingegnere che viene fuori dal Politecnico di trovarci dei sistemi per immagazzinarla sottoterra o sotto gli oceani. Quindi sembra abbastanza assurdo. Allora iniziamo a utilizzare quello che abbiamo che già la natura ci dà senza andare a impazzire poi per trovare soluzioni ai problemi che creiamo. Allora abbiamo detto, manca una legge statale omogenea che dia delle regole base a tutte le regioni perché poi ogni regione si muove, alcune più goffamente, alcune in modo più concreto però non possiamo aspettarci l'iniziativa sul locale per la battaglia sullo stop al consumo di suolo. Abbiamo i comuni che certamente sono in prima fila, sono da rimproverare per alcuni aspetti ma abbiamo anche una situazione per cui non arrivano soldi ai comuni e se l'unica alternativa che gli dai è vendere pezzi di territorio i comuni per dare i servizi ai cittadini venderanno pezzi di territorio. Allora o a monte diamo delle regole precise e dei principi altrimenti rischiamo che dobbiamo andare sulla buona fede di chi ci amministra in quel momento sul singolo territorio che non può avere la visione a livello globale che invece deve dare lo Stato. La norma europea come sapete è stata fermata e si sta cercando con People for Soil di farla ripartire però è molto difficile perché comunque gli interessi in gioco sono tantissimi la stessa bolla speculativa sugli edifici in Italia non è mai scoppiata sappiamo benissimo che i valori delle case in Italia non sono scesi più di tanto perché comunque sono in pancia ancora a grandi imprese e banche e se dovessero saltare si arretterebbe tutto il sistema quindi non abbiamo avuto i danni della Spagna solamente perché non possiamo rischiare che salti tutto il sistema ma sappiate bene che non abbiamo necessità di nuove costruzioni abbiamo milioni di divani vuoti, inutilizzati o comunque come seconde case quindi non c'è assolutamente... stiamo combattendo una battaglia su una cosa scontata non c'è necessità di costruire perché non aumenta la popolazione e abbiamo già case e capannoni in abbondanza io avevo definito delle priorità allora priorità è dare prevalenza in più importanza alla pianificazione pubblica rispetto all'interesse del privato è già stato accennato o partiamo da questo principio altrimenti non ci capiamo su nessun aspetto cioè o l'interesse di chi pianifica il territorio è pubblico e gli si danno gli strumenti per far valere l'interesse pubblico altrimenti il singolo avrà sempre la prevalenza e ti dirà ti faccio causa se mi cambi di nuovo la destinazione d'uso io ti faccio causa e ti chiedo dei soldi i comuni naturalmente si tirano sempre indietro su questa cosa non possono permetterselo e soprattutto perché spesso poi viene data ragione magari al singolo costruttore allora dobbiamo stabilire sempre a livello nazionale e sempre basandoci su norme che io credo ci siano già in costituzione ma che vanno esplicitate meglio che l'interesse prioritario è per la pianificazione pubblica prima va tutelato il pubblico e l'interesse pubblico se l'interesse pubblico ci dice con i dati che non abbiamo interesse a costruire perché non ce n'è necessità o perché è troppo costoso costruire una certa area perché poi la società, lo Stato, il Comune deve portare i servizi in quell'area e il guadagno quindi c'era solo il costruttore che vende l'appartamento ma tutto il resto sono costi che ricadono sulla società non possiamo farlo semplicemente dobbiamo stabilire questi parametri le necessità reali l'abbiamo detto spesso appunto ci si basa su studi che danno ancora alla popolazione io immagino nel mio Comune si danno ancora alla popolazione in crescita quando è in calo da anni il problema è che ci si basa sull'ultimo studio fatto che è probabilmente degli anni 70-80 e poi devo denotare un'altra cosa fare rispettare le regole che già abbiamo ma è possibile che abbiamo, si diceva, l'11% di suolo consumato nelle aree a rischio e poi piangiamo ogni problema, ogni alluvione e ogni disastro in cui perdiamo qualche caro abbiamo il 23% delle coste cementificate nonostante le norme che tutelano almeno i primi metri dalla costa abbiamo il 7% cementificato nelle aree di rispetto dei fiumi e dei laghi qui dobbiamo fare un ragionamento un po' tutti su cosa vogliamo per il nostro paese se vogliamo che le regole siano rispettate l'abusivismo è imperante in Italia e o si decide di dare un taglio netto altrimenti io vedo ancora oggi faccio un esempio la legge falanga di cui si parla nelle aule parlamentari in cui si cerca di dare un altro escamotage per fermare le demolizioni degli edifici abusivi noi non possiamo più permettercelo non c'è necessità se c'è necessità è lo Stato che deve dare una mano alle fasce più deboli non è certamente la fascia debole che deve avere e mi chiedo con che soldi la possibilità di costruirsi la villa, la casa nei dintorni del paese quindi i passi, le prime mosse da fare pianificare, pianificazione fondamentale e capire che la pianificazione importante va fatta da persone preparate e qualificate per farla riqualificazione delle nostre città e dei nostri edifici può essere riqualificazione energetica ma può essere anche riqualificazione come i tetti verdi le recinzioni verdi la deimpermeabilizzazione per esempio dei parcheggi con nuove tecniche che diano la possibilità di far filtrare l'acqua faccio un esempio se si vuole intervenire sulle esondazioni del Seveso si può intervenire facendo delle vasche di laminazione che tolgono tra l'altro aree verdi delle poche che abbiamo nel nord Milano oppure si può cercare di fare un piano che certamente ci metterà più anni e sarà più costoso ma che è risolutivo sulla deimpermeabilizzazione di vaste aree delle città che stanno nel nord Milano ripianificando intervenendo e convertendo aree che non serve siano completamente impermeabilizzate in aree che lasciano passare le acque e quindi vanno a riempire le falde non vanno a fare da imbuto verso l'unico fiume che abbiamo in zona recuperare e rigenerare le aree dismesse le aree abbandonate le aree da bonificare che abbiamo in tutte le nostre città ma anche nei soborghi abbiamo tutti gli ex centri industriali da recuperare utilizziamo questi se proprio dobbiamo costruire e soprattutto tutti i dati ci dicono che non è più una battaglia di chi vuole salvare l'ambiente contro chi vuole il lavoro no, facendo queste battaglie combattendo una battaglia per lo stop al consumo di suolo il recupero energetico la rigenerazione andiamo anche a creare posti di lavoro posti di lavoro qualificati che poi escono magari da istituti come questo chiudo facendo un appunto veloce sulla legge che credo non vedrà mai la luce in questa legislatura purtroppo ma mi consolo anche che non la veda perché per come è nata praticamente è stata completamente stravolta le definizioni non sono ancora azzeccate nel senso non sono neanche le definizioni che ISPRA che adesso per esempio è il punto di riferimento nazionale avendo creato il sistema agenziale è il punto di riferimento nazionale per queste informazioni questi dati sul consumo di suolo e che ci indicava delle definizioni precise non sono state prese queste definizioni se le definizioni scientifiche le facciamo fare alla politica naturalmente vengono fuori leggi sconclusionate abbiamo problemi sulla parte dei compendi neorurali per i urbani in cui si consentono le trasformazioni d'uso per edifici rurali e quindi si rischia la speculazione in campagna proprio dove dovevamo tutelare di più il suolo e abbiamo una delega come si accennava prima sulla rigenerazione urbana vuol dire che do una delega al governo per definire cosa fare come rigenerazione urbana senza accennare minimamente al testo unico dell'edilizia quindi il governo se troviamo qualcuno in gamba ci mette delle norme che migliorano la situazione se troviamo qualcuno meno in gamba se troviamo un lupif per esempio ci troviamo che saltano anche i servizi minimi oppure potrebbero rivedere le distanze potrebbero rivedere i parcheggi potrebbero rivedere il verde urbano cioè non c'è più nessuna regola che vale perché è una delega in bianco e quindi rischiamo veramente di andare a cozzare con qualcosa che faccia peggio rispetto a quello che abbiamo adesso quindi la paura è sempre questa effettivamente non c'è volontà di andare a toccare la legge sul consumo di suolo mi fermo che sono andato troppo lungo non si vuole andare a toccare veramente il consumo di suolo si vuole eventualmente parlarne rispetto al suolo agricolo se andiamo a parlare di urbanistica e città c'è il terrore sia perché si rischia di andare veramente verso un peggioramento sia perché non si vogliono toccare certi interessi io credo che sia il momento in cui si converge tutto abbiamo creazione di posti di lavoro tutela della salute tutela dell'ambiente qualità di vita e una battaglia anche per il nostro futuro di sopravvivenza sul pianeta se non riusciamo a farlo adesso la vedo veramente dura però usciamo dal messaggio parliamo del consumo di suolo parliamo di come vogliamo vivere di che qualità di vita vogliamo avere e quale vuole essere il nostro futuro qui sulla terra grazie 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 grazie